Anche lo scorso anno abbiamo celebrato la giornata italiana della statistica, ospiti della prefettura di Parma, nella cornice del suggestivo salone di rappresentanza del Palazzo Farnese Rangoni. Con un centinaio di studenti abbiamo affrontato un tema particolarmente sfidante, la statistica per costruire un futuro sostenibile e ci siamo messi in gioco per provare a immaginare un mondo più equo. Partendo da una panoramica degli obiettivi dell'Agenda 2030, contestualizzando i dati al territorio dell'Emilia-Romagna e proponendo ai ragazzi di sfidarsi in un gioco a quiz con il proprio smartphone, abbiamo voluto dare concretezza ai tanti ragionamenti di attualità che appassionano i giovani. Dopo la premiazione dei vincitori ci siamo salutati con la consapevolezza che ciascuno di noi, anche con l'aiuto della statistica ufficiale, può fare la sua parte per promuovere il raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.